Io, Giovanni, vidi salire dall'Oriente un altro angelo, con il sigillo del Dio vivente, e gridò a gran voce ai quattro angeli, ai quali era stato concesso di devastare la terra e il mare. Non devastate la terra, né il mare, né le piante, finché non avremo impresso il sigillo sulla fronte dei servi del nostro Dio. E udì il numero di coloro che furono segnati con il sigillo. 144.000 segnati, provenienti da ogni tribù dei figli d'Israele. Dopo queste cose vidi, ecco, una moltitudine immensa, che nessuno poteva contare, di ogni nazione, tribù, popolo e lingua. Tutti stavano in piedi davanti al trono e davanti all'agnello, avvolti in vesti candide, e tenevano rami di palma nelle loro mani. E gridavano a gran voce. La salvezza appartiene al nostro Dio, seduto sul trono e all'agnello. E tutti gli angeli stavano attorno al trono, e agli anziani, e ai quattro esseri viventi, e si inchinarono con la faccia a terra davanti al trono, e adorarono Dio dicendo «Amen! Lode, gloria, sapienza, azione di grazie, onore, potenza e forza al nostro Dio nei secoli dei secoli. Amen!» Uno degli anziani allora si rivolse a me e disse «Questi, che sono vestiti di bianco, chi sono e da dove vengono?» Gli risposi «Signore mio, tu lo sai!» E lui «Sono quelli che vengono dalla grande tribolazione e che hanno lavato le loro vesti, rendendole candide nel sangue dell'agnello.